Benvenuti a tutti di nuovo qui sul canale di Non Solo Fumetti, io sono sempre il vostro maledetto nessuno ed oggi vi porto gli acquisti della terza settimana di novembre 2023. Ho davvero una marea di cose da farvi vedere tra acquisti da fumetteria e acquisti fatti sul mondo dell'usato. Oggi vi mostrerò praticamente solo quella che è la roba che ho preso in fumetteria, dato che mi sembra già parecchia. Il resto invece ve lo beccherete in un prossimo video dedicato appunto ai recuperi dell'usato. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di andare a ficanasare tutti i miei link in descrizione dove potete trovare in primis il profilo Instagram per venire a spiarmi e vedere cosa sto leggendo in quel momento e soprattutto il gruppo Telegram dove potete incontrare diverse persone appassionate di fumetto e dove vi dico la verità, a breve ci saranno delle novità esclusive per tutti i membri. Vabbè, io non vi dico altro, partiamo come al solito dai manga ragazzi. Primo tra tutti, Claymort e il maestro Noriro Yagi. Numero 12 di questa serie Dark Fantasy, come sempre ve la consiglio un sacco. Sapete che infatti ogni volta che torno a casa con uno di questi lo leggo sempre subito. Volume 12 dove praticamente il maestro getta le basi per il nuovo arco narrativo che va appunto a seguire quello della guerra del Nord. Le sopravvissute della guerra dopo ben sette anni ecco che rifaranno la loro comparsa. Un volume già molto emozionante e che ci dà un piccolo assaggino di com'è il mondo fuori dalle città innevate del Nord. Prezzo di 5,90 euro, non la storia della vita, comunque una lettura che trovo sempre molto piacevole e soprattutto molto molto scorrevole. Vi dico la verità, se volete vedere poi qualche disegno basta che andiate sui miei vecchi video acquisti. Insomma, non sto certo qui a mostrarvi 10.000 volte il tratto del maestro Noriro Yagi. Tiè, beccatevi due tavole veloci. Prossimo recupero ragazzi, il manga che più di tutti tra quelli in pubblicazione non vedo l'ora di leggere appena esce. Nessuno di voi ha mai immaginato di distruggere il mondo intero o semplicemente di fare a pezzi qualsiasi cosa vi circondi. Quando le cose non vanno mai per il verso giusto non viene anche voi no, voglia di fare a pezzi qualcosa. Io ho sempre questa voglia ogni tanto di distruggere e di fare a pezzi qualcosa. Why Always Me diceva no, un famoso calciatore della nazionale. In Evil ragazzi, tutto quello che potrebbe sembrarvi una follia diventa plausibile. Un manga che per quanto nel torto siano i protagonisti non farà che farvi fare il tifo per loro. Quando il mondo ti volta le spalle, beh, non vi resta che farlo a pezzi, semplice. E questa no, la follia che sta dietro per ora a questo manga e al gruppo di villain adolescenti che non fa altro che distruggere tutto. Anche in questo numero i nostri protagonisti si dovranno scontrare con degli altri supereroi, tanto dalla parte della giustizia quanto fuori di capoccia. Una narrazione incredibile, quella di Kaneko, che riesce a far trasparire tutto il dolore, tutte quelle ingiustizie che questi ragazzi hanno dovuto vivere. Un dolore che alimenta l'odio e che sembra gradualmente alimentare a loro volta proprio i loro poteri. Impareremo ad odiare la gente, capiremo come la quotidianità non è altro che un'enorme bugia, che appunto va a nascondere persone false, atteggiamenti di facciata e approfittatori schifosi. Insomma, uno specchio perfetto di quella che in fin dei conti non è altro che la nostra realtà. Una bomba, cazzo. Per non parlare poi di supereroi, combattimenti, momenti introspettivi, ragazzi, qui dentro c'è tutto. Manga che se continua così finirà nella mia top manga, quasi, certamente. Per non parlare del disegno, poi, ragazzi, a me fa, a dir poco, impazzire. Cioè, delle linee belle spesse, sfondi neri, no, come la pece, e un contrasto che in ogni tavola rende quest'opera visivamente, secondo me, banca bestia. Non saprei come altro definirla. Si potevano dire altre mille cose, ma a me andava di dire così. Se non l'avete ancora cominciato, ragazzi, siete dei fottutissimi tacchini, non c'è altro da dire. Qua, la scusa dell'avere troppa roba assolutamente non vale. Droppate qualcos'altro, ma recuperate questo titolo. Non ve ne pentirete, perché ne vale veramente la pena. Altro bel recuperino che mi fa assolutamente impazzire, stiamo parlando di Ranking of Kings. Non vedo l'ora di scoprire come è andato a finire l'allenamento di Boggi in questo quarto numero. Purtroppo l'ho cominciato a leggere, ma non l'ho ancora finito, come potete vedere da questo segnalibro. Insomma, altrimenti diventava troppo tardi per registrare e montare il video. Cioè, sono le 18 di domenica e io sono ancora qui a registrare. L'Immortacci. Un manga questo, semplice, molto scorrevole, che proprio grazie a questa sua grande semplicità riuscirà a coinvolgervi come non vi aspetterete. Davvero una scoperta che sono molto contento di aver fatto. Un fantasy questo, dove accompagneremo il piccolo principe Boggi, non riesco a parlare, cazzo, nella scalata per coronare quello che è il suo sogno, ovvero quello di diventare re. Malgrado tutte le difficoltà, ragazzi, non è mai troppo tardi per sognare. È un po' questa la morale generale dell'opera che mi sento di lanciarvi dietro. Prendetelo, fidatevi, secondo me è una lettura fantastica, che è assolutamente adatta a tutte le età, come ho già detto anche le altre volte qui sul canale. Ora, insomma, la smetto, altrimenti divento pesante. Altro bel recuperino che ho missato a Lucca Comics e che ho deciso di fare dal mio fumettaro di fiducia, Dracula Midnight Children, volume 1 di Shinichi Sakamoto. Tratto dalla storia originale di Bram Stoker, ovviamente, per chi non lo sapesse, è stato, appunto, lo scrittore di Dracula, del romanzo di Dracula. Da qui poi è stato anche tratto l'omonimo film che, ovviamente, non posso che consigliarvi. Un cazzo di capolavoro, secondo me, diretto da Francis Ford Coppola. Anzi, un capolavoro secondo i critici, secondo i cinefili. Io non sono un cazzo di nessuno, non so niente di cinema, quindi posso solo dirvi che mi è piaciuto molto, ecco. Non ho ancora iniziato a leggere questo volume, ho terminato di montare il video, se non finisco domani mattina, vorrei finire Ranking of Kings, sfrarmi questo volume di Sakamoto e poi anche il prossimo manga, che vi farò vedere, però, insomma, ho perso un po' le speranze, non credo di farcela entro oggi. Faccio un po' di presentazione del volume, dato che è la prima volta che ve ne parlo. In questo caso, ragazzi, siamo di fronte a Dun Seinen, dell'autore di Climber and Innocent, Shinichi Sakamoto, ovviamente. Due manga, questi, Climber e Innocent, che dovrei recuperare, ma al momento non posso, vista la molle di roba che ho già da leggere. Ovviamente, visto il titolo del manga, di che cosa cazzo volete che parli questo manga? Parlerà di Vampiri, sarà un manga orrorifico, soprannaturale, che in Giappone, ragazzi, è ancora al volume numero 3, e ovviamente è ancora in corso. Prezzo per J-pop di 12 euro a volume. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Se lo trovate in fumetteria, prendete, apritelo e sfogliatelo. I disegni sono allucinanti, ve ne mostro un pochettini, veramente. Sakamoto ha questa abilità nel rappresentare i personaggi, con questi tratti delicati, quasi effemminati, anzi, proprio effemminati, che conferiscono alle sue figure un fascino inconfondibile, secondo me. Si viene proprio a creare quel contrasto pazzesco tra quella che è la dolcezza che ci viene trasmessa tramite questo tratto e la sensazione orrorifica di un manga piuttosto crudo ed inquietante, che alcuni momenti della storia ci fanno vivere. Credo che io non sia l'unico ad aver un attimino pensato queste cose. Mi dispiace non aver fatto in tempo a leggerlo per dirvi come ho trovato la storia. A questo punto credo che vi farò una bella flash manga review. Prossimo volume, ragazzi, siamo sempre con Shinichi, ma non Sakamoto, bensì Ishizuka, l'autore di Blue Giant. Oggi ci porta, cazzo che spissa il naso, il terzo volume di Gaku, il suo manga sull'escursionismo. Di solito anche questo è uno di quei manga che non appena arrivo a casa, prendo e mi sparo subito. Oggi non ho fatto in tempo, insomma. Cosa posso dirvi? Come altre numerose volte vi ho detto, Shinichi Ishizuka, secondo me, è uno di quei mangaka del momento, uno di quelli da tenere davvero sott'occhio. Gaku è la sua prima opera, anche se è un pochettino datata, ma ragazzi, io trovo che sia veramente molto bella. Si tratta di un manga e di una storia che ci accompagneranno nel bel mezzo della natura. In tutti quei posti dove sarebbe bello trovarsi proprio in questo momento, se solo non fossi un cazzo di elefante affetto da divanite cronica. Storie quelle qui contenute che ci faranno vivere appunto la natura, la montagna, ma portano con sé delle storie anche molto molto personali di tutti i personaggi. A volte infatti si tratterà proprio del nostro sampo, a volte invece rivivremo le storie di vita delle persone che saranno messe in salvo. Vi mostro anche qualche disegno del maestro Ishizuka. Insomma, secondo me, una lettura tutto sommato molto bella, con i piedi piantati saldamente al terreno, se cercate qualcosa di interessante, leggero e non troppo impegnativo, io credo che questo manga sia davvero la scelta giusta. Il manga parte dalla base appunto di come una sfida, di come una scalata in questo caso, può essere una fonte di riflessione, di meditazione interiore, una sorta di nutrimento per il nostro io. Quest'opera ragazzi ci fa capire come l'importante non sia arrivare in cima, ma semplicemente come anche solo alzarsi dal divano può trasformarsi già in una vittoria. Quindi, non fate i fototissimi elefanti come sottoscritto e date una scossa alla vostra vita. Volume numero 3 di 9 al prezzo di 15 euro, edizione Kanzenban, quindi 2 in 1, proprio come quella di tutte le altre opere del maestro. Recuperatelo e fate un favore anche a voi stessi. Altro recupero ragazzi, è uscito il volume numero 11, sì, il numero 11 di Oshinoko. Se devo essere totalmente sincero con voi, non ho più continuato la lettura dall'ultimo video. Questi sono fermo al numero 3 con la lettura, una vera e propria vergogna, ne sono consapevole, cioè che cazzo prendi i fumetti a fare se poi non li leggi? Avete perfettamente ragione. Per ora ragazzi, posso solo dirvi che mi stava piacendo. Questo titolo ragazzi, però per il momento, è slittato indietro nella lunga coda di lettura che ho. Disegni, come vi ho già detto, molto carini per quanto mi riguarda. Non posso però consigliarvelo allo stesso modo delle opere precedenti, dato che credo di aver bisogno di qualche numero in più, visto che la storia è già andata avanti rispetto al punto in cui io sono. Quindi, finché non l'avrò letta o insomma avrò recuperato un po' gli arretratti, non credo continuerò a pronunciarmi oltre in merito. Ultimo recuperino in serie, 5 volumi tutti insieme, ovvero di tracce di sangue del maestro Shuzo Oshimi. Sto finendo di leggere Ikigami, che anche quello è stato vomitato da panini in due tranche. Questo invece lo sarà in 3 o 4, insomma, staremo a vedere. Volumi dal 6 al numero 10, 7 euro a volume. Finito Ikigami, ragazzi, partirò subito con la lettura di questo. Poco ma sicuro schizzerà in cima alle cose da leggere, dato che di Oshimi, non ho ancora letto un cazzo per intero. Disegni spettacolari che adesso vi mostro, stesse vibes che ho avuto sfogliando Sakamoto, quindi contrasto tra delicatezza del tratto e momenti della storia piuttosto inquietanti. Provate a guardare un po' qui, vedete, tratto delicato ma espressioni che insomma ci fanno venire la cacarella. Ovviamente ognuno dei due lo fa a modo proprio, sono curioso di vedere insomma chi dei due mi farà venire di più la pelle d'oca sperando che appunto qualcuno dei due ci riesca dato che appunto più si diventa vecchi più si diventa insensibili. Scherzo ovviamente mi sto solo prendendo giuoco di voi, io sono giovanissimo cazzo. Ottimo, credo di aver terminato qui con i ma... Ah no, c'è ancora sto stronzo sulla pila, il movimento della terra di U8 volume numero 5. Cosa posso dirvi? Lungo sospiro. Si tratta di un manga dove accompagneremo uomini, donne e monaci mettiamo dentro tutti nello studio dell'astrologia nel tentativo di andare a fare un attimino di chiarezza sul sistema geocentrico quello che vede appunto la terra al centro del sistema solare. Teoria che appunto nel rinascimento l'epoca in cui è ambientata questa storia stava iniziando palesemente a fare un po' di buchi da tutte le parti. Una battaglia quindi questa verso quello che è l'assolutismo religioso del cattolicesimo mettiamola così che appunto prevedeva il geocentrismo come unica e sola verità astrologica. Un manga insolito che inizialmente ragazzi mi ha attirato davvero molto subito dopo poi si è fatto altrettanto odiare mentre ora insomma lo sto rivalutando nuovamente. Boh credo che nessun manga mi abbia mai fatto provare dei sentimenti così contrastanti ma non per la storia ovviamente ma in generale no intendo io dei disegni cioè come si possono definire questi affari del cazzo cioè non c'è un'altra parola però al discapito dei disegni una trama vi dico che ho trovato veramente interessante ma soprattutto nuova un manga che prende quindi e va ad esplorare un sapere proibito un manga che ci racconta come la scoperta della verità vince sulla paura della morte la voglia di conoscere di sapere infatti è inarrestabile irrefrenabile un omaggio a tutti i grandi dell'astrologia da Copernico a Galileo fino ad arrivare a tutti coloro che sono stati dimenticati e la quale voglia di conoscere non è stata altro che una condanna chiamiamoli i martiri del sapere quindi insomma ragazzi vi dico la verità la storia non è per niente male in alcuni tratti magari la trama potrebbe non convincere appieno ma insomma direi che è più che passabile il disegno come abbiamo detto fa schifo cioè non è bello comunque dobbiamo anche dire che non si può basare una valutazione solo sul disegno altrimenti Initial D lo utilizzeremo per accendere la fornella e poi ovviamente anche il prezzo ragazzi l'altro handicap di questo fumetto di 12,90 euro che rappresenta la vera e propria follia insomma una battaglia si è manifestata dentro di me dato che da una parte volevo continuare questa storia dall'altra volevo mandare a fanculo tutti sti cazzo di volumi e anche tutti coloro che ci vanno dietro la decisione ragazzi qual è stata è stata quella appunto di continuare fino alla fine tanto dovrebbero essere mi pare 8 se non 7 adesso ho un momento di defiance e riuscire così anche a darvi un parere magari quando avremo tutta la storia in mano voglio farvi un po' male agli occhi ancora una volta quindi beccatevi qualche oscenità di U8 che ragazzi tutto sommato sfogliando quest'ultimo volume uscito rispetto al primo volume ha fatto dei passi da gigante a proposito di giganti e il primo volume ragazzi faceva proprio concorrenza a Isayama anzi probabilmente lo batteva nettamente cioè Isayama disegni da paura in confronto al primo volume di questo comunque va bene ragazzi non mi sento di consigliarvelo sono un po' troppo combattuto il consiglio che vi do qual è investite su qualcosa di più certo secondo me tipo Ishizuka Kaneko o chi altro Shinzo ad esempio su di loro secondo me i soldi sono sempre spesi bene bene ora abbiamo davvero finito con quelli che sono i manga e prima di passare al fumetto americano direi di andare a gustarci quelli che sono i disegni del caro e vecchio drago nero è uscito infatti il numero 13 del mondo oscuro intitolato i baluardi dell'Erendar credo di essermi lasciato alle spalle più o meno 5-6 volumi se non sbaglio in poche parole vi dico la verità prima di leggere tutti questi volumi aspetterò che termini la saga del mondo oscuro può essere che ci voglia anche un anno chi lo sa e vi cacerò poi un bel video sulla saga completa intanto se vi interessa potete trovare il mio video su come iniziare a leggere e a recuperare questa testata con tutti quelli che sono i miei personali consigli per iniziare al meglio drago nero vi sfoglio solo i disegni quindi qui abbiamo un prittico di disegnatori la prima storia è in mano a Fabiano Ambu direttamente dai Jonin che appartengono ai servizi segreti del villaggio della foglia sto scherzando ragazzi non so da dove cazzo mi sia uscita sta boiata comunque questi disegni di Fabiano che ho ficanasato poco fa e sgamate ve li c'è sono pazzeschi me ne sbatto vi sbatto questi sullo schermo perché bellissimi proprio belli complimenti Fabiano seconda storia invece di Alessio Camardella vi mostro anche il suo tratto si tratta di un tratto più sottile con meno contrasti per quello che è il suo stile di disegno comunque io lo trovo molto carino ed infine poi il terzo episodio quello dove abbiamo appunto Alex Masacci che tende ad avere un certo realismo dei volti e sinceramente a gusto personale mi piace sì tutto del suo disegno ma non apprezzo particolarmente quello che è il suo gomore aspettate che ve lo faccio vedere eccolo qui tipo questo in basso io sinceramente lo trovo un po' troppo aggraziato non saprei come spiegarmi lo trovo troppo umano ecco quando gomore come sapete bene se siete dei lettori di dragonero è un personaggio forse anche più umano dei certi umani sì per quello che appunto riguarda il suo carattere e il suo modo di fare ma esternamente ragazzi deve incutere timore dato che è un fototissimo orco no gomore mi piace perché è il classico personaggio che fa riferimento alla solita frase l'abito non fa il monaco e ragazzi secondo me ci riesce alla perfezione però non lo voglio vedere con dei tratti umani fammelo brutto fammelo incazzato sporco così lo voglio cioè gusti personali non vuole assolutamente dire questo che sia brutto però ecco gomore secondo me deve essere un fotutissimo orco brutto esternamente e bello dentro come solo noi lettori di dragonero sappiamo che è bene dopo questa parentesi sull'orco erudito armato di ascia gigante possiamo passare finalmente al fumetto americano primo di due recuperi Hulk grigio ordinato prima di partire per il Luca Comics e trovato l'infometria ad attendermi si tratta di una delle quattro storie appartenenti alla quadrilogia cromatica di Tim Sale e Jeff Loeb abbiamo già messo in saccoccia Spider-Man Blue storia clamorosa di cui vi ho parlato appunto nello scorso video acquisti se non sbaglio quello prima del Luca Comics se vi interessa insomma spulciate uno o due video indietro ecco prima del Luca Comics ora invece abbiamo per le mani Hulk grigio si grigio ragazzi perché Hulk all'inizio subito dopo lo scoppio della bomba gamma era grigio e non verde faremo quindi un viaggio nel passato di Hulk o meglio di Bruce Banner un po' seguendo quello che è lo schema che abbiamo incontrato in Spider-Man Blue se in Spider-Man Blue Peter parlava al registratore a Gwen Stacy qui Bruce Banner invece racconta e parla al proprio amico e psichiatra Leonard il proprio passato dinamica del flashback raccontata dal protagonista che ci fa rivivere insieme a lui da spettatore tutto il suo passato partendo quindi dagli albori da quella che è la nascita di Hulk e dalla esplosione di quella maledetta bomba gamma una storia che ci mostrerà due lati opposti di due personalità un pochettino da Dr. Jekyll e Mr. Hyde figura la quale Hulk sicuramente è ispirato andremo quindi poi a visitare a rivisitare meglio ancora il loro passato come se fossero un'unica identità andando a vedere insieme a loro qual è il loro anello di congiunzione più potente e qual è questo anello di congiunzione ovviamente l'amore cosa che non si direbbe mai ragazzi leggendo no di solito le storie di Hulk una storia sentimentale e ricolma di dolore questa ragazzi assolutamente consigliata io l'ho letto e vi dico che non faccio altro che apprezzare sempre di più questa coppia di autori secondo me incredibili vi mostro quello che è il tratto di Team Sale portate pazienza ormai ogni video acquisti c'è Team Sale e vi mostro qualcosa di suo un'ambientazione questa volta secondo me decisamente più dark disegni che appunto si fanno apprezzare e sono caratteristici poi anche del suo stile uno di quei must have secondo me assolutamente che vale assolutamente la pena di prendere ecco a proposito questi sono proprio quei must have che secondo me sono da prendere miniserie complete e storie brevi in un unico volume volumi invece con storie diciamo incomplete o parti di storie fate a meno di prenderli perché sono delle cazzo di scammate prezzo di 15 euro all'interno avrete i 6 numeri della storia completa e anche qualche approfondimento a fine pagina un affare secondo me per quanto mi riguarda e anche una lettura di assoluta qualità ultimo recupero della settimana ragazzi deluxe edition di spawn volume 9 all'interno ragazzi i numeri dal 101 al 113 soggetti di Todd McFarlane sceneggiatura di Brian Holguin e disegni di Angel Medina questi numeri ragazzi sono riediti per la prima volta in Italia dopo ovviamente la loro uscita nel 2000 quindi storie che sono praticamente irrecuperabili al momento se non recuperando questo cartonato oppure gli spillati di ben 20 anni fa vi mostro qui il tratto all'interno di Angel Medina che ragazzi a me piace molto si tratta del solito fumetto mega tamarro di Image Comics tipico degli anni 90 tavole piene zeppe un po' di tutto direi spawn ragazzi uno di quei fumetti che con i suoi primi dieci numeri mi ha avvicinato al comics americano ovviamente qui non sono assolutamente in pari con la lettura ma riprenderò a leggere questi volumi quando avrò tempo appunto per farlo che volete che vi dica lo trovo come sempre un fumetto spettacolare so che in molti non sono assolutamente d'accordo e odiano McFarlane e tutte le sue creazioni a me sinceramente non frega un cazzo ecco il personaggio mi piace un eroe ragazzi dei bassi fondi che vive nell'immondizia i suoi amici appunto chi sono sono i barboni gente che appunto come lui non ha più nulla se non la propria vita o quello che ne è rimasto un eroe ragazzi che ritorna dagli inferi e voglio assolutamente scoprire come il tenente al Simmons uscirà da questo inferno di merda insomma un personaggio che avrà sempre un posto nel mio cuore una collana quindi che ci tengo assolutamente ad avere nella mia libreria tutto qui soprattutto ragazzi perché io Spawn l'ho conosciuto leggendo questi relitti questi spillatini editi dalla Star Comics eccoli qua tutti quelli che ho e che mi hanno fatto leggere per la prima volta appunto Spawn numero uno della Image Comics che vi mostro del novembre 1993 praticamente è esattamente vecchio come a me questo questo fumetto qui questo albetto dentro all'epoca ragazzi insieme a Spawn uscivano i Wildcats praticamente di Jim Lee e Brandon Choi se non sbaglio e poi Youngblood di chi non mi ricordo di chi cazzo era Youngblood portate pazienza sono ignorante successivamente poi dal numero 5 di questa notte stata chiamata Image Spawn venne affiancato a Savage Dragon e venne dedicata una testata a questi due personaggi insieme Savage Dragon ragazzi che se vi devo dire la verità non mi è mai dispiaciuto ecco leggere soprattutto in questi pochi volumi che avevo a disposizione insomma effetto nostalgia ragazzi in fin dei conti si tratta questi spillatini di tutta roba di poco valore niente che valga oro colato tutta roba che ho trovato nei miei ride ai mercatini dell'usato ormai anche un bel po' di anni fa però è grazie proprio a questi se mi sono innamorato di Spawn giusto per farvi vedere vi mostro quanto cazzo erano belli questi spillati con la carta ruvida guardate qualche robetta guardate che roba bellissimo se avrò mai la fortuna di farmi firmare qualcosa da lui credo mi farai firmare questa tavola per appenderla al muro così aperta in verticale spaziale bellissime queste tavole poi l'effetto della carta ruvida conferisce questo aspetto ancora più dark a questo personaggio niente a che vedere con la deluxe edition gusto personale mio tutto qua ragazzi per oggi credo di aver finito qui uscirà un altro video con tutta la roba usata che ho recuperato scusate se mi sono dilungato e vi ho raccontato anche cose in più però insomma a me piace parlare un po' di tutto altra roba insomma usata dicevamo che comunque sarà bella corposa se non addirittura forse più corposa di questa roba nuova che abbiamo visto oggi ci tengo a ricordarvi i miei social qui sotto in descrizione vi ricordo anche di iscrivervi al canale sapete che per me è davvero molto importante vi ringrazio per esservi guardati tutto il video un salutone dal vostro cazzo di nessuno alla prossima ciao a tutti